Ragazzi finalmente si ritorna con i video di calciomercato mancano ormai pochissimi giorni all'apertura di questo calciomercato appunto di gennaio che andrà dall'1 gennaio fino al 31 e mancano veramente pochissimi giorni e già si sentono le prime bombe, le prime ipotesi, già qualche colpo in Serie A, ad esempio Icone alla Fiorentina, Jeremy Bogat all'Atalanta, Icone alla Fiorentina che si è chiuso per circa 15 milioni, Bogat all'Atalanta per circa 20 milioni, due ottimi colpi sull'esterno ma oggi primo video di calciomercato andremo a parlare della Lazio partiamo da Andanovic si è parlato di un interesse della Lazio anche se per ora momentaneo per Samira Andanovic però domanda Andanovic alla Lazio io rispondo no grazie perché allora dipende anche da come si evolve la situazione se è per sostituire Reina tipo mandiamo via Reina e prendiamo Andanovic è un grande upgrade assolutamente perché Reina è in fase calante anche Andanovic ma comunque resta comunque un signor portiere le sue parate le fa, le sue partite le fa anche nelle coppe europee ad esempio ha tantissima esperienza quindi rispetto a Reina sarebbe sicuramente un passo in avanti però se prendiamo Andanovic per metterlo titolare e lasciare ancora fuori Stracoscia allora no, questo sinceramente no grazie perché Stracoscia non possiamo bruciarlo ancora ha trovato continuità nelle ultime partite, Sarri lo sta mettendo titolare, sta anche giocando bene in tre partite ha già fatto tante parate che ci hanno salvato da tanti gol perché secondo me Reina alcune di queste non le avrebbe prese già è stato bruciato per una stagione, arriva anche Andanovic un altro anno a stare in panchina no, dobbiamo farlo crescere, sta anche crescendo bene conto se si prende Andanovic per le coppe europee appunto perché ha esperienza ma poi Andanovic se lo prendi a 38 anni ti regge un anno, forse neanche e poi basta, quindi non possiamo rischiare ancora di bruciare Stracoscia visto che non è neanche cosiddetto che resti può essere che a Giugno se ne va, dipende dal rinnovo del contratto quindi io terrei assolutamente Stracoscia titolare che mi convince a pieno e poi nel caso dovesse andare via Reina e dovessimo prendere Andanovic lì sicuramente sarei contento perché sarebbe un upgrade abbastanza importante quindi Andanovic a me non mi convince, dipende un po' da come la vede la dirigenza se vuole prenderlo per titolare o per riserva di Stracoscia per sostituire Reina però a me questo colpo non convince affatto passiamo poi a Kurzawa e questo colpo invece mi convincerebbe tantissimo Kurzawa, stiamo parlando di esterno terzino del Paris Saint Germain ultimamente, anche nelle ultime stagioni non sta trovando spazio, non è proprio un ragazzino ma non è certo vecchio diciamo in ambito calcistico perché ha 29 anni quindi comunque nel pieno della sua carriera vuole rilanciarsi, vuole rilanciarsi perché giustamente al PSG non sta trovando spazio e non ha voglia di fare panchina quindi vuole trovare un'altra squadra e rilanciarsi diciamo ricominciare di nuovo ha un ingaggio alto, abbastanza alto percepisce circa 4-5 milioni netti all'anno e quindi questo potrebbe essere un problema per la Lazio però c'è il decreto crescita il PSG visto che deve smaltire un po' di giocatori un po' di ingaggi visto il mercato faraonico di quest'estate a quanto capito sarebbe disposto a pagare una parte dello stipendio dell'ingaggio di Kurzawa quindi metti questi 4 milioni netti all'anno un po' il decreto crescita, un po' ce li pagano loro diciamo lo stipendio si abbasserebbe ulteriormente quindi secondo me sarebbe un'occasione che dobbiamo approfittarne perché Kurzawa è veramente un gran terzino non sta trovando spazio al PSG ma cioè a Kimi, sulle fasce insomma non è facile trovare spazio in quella squadra piena di campioni e a noi però farebbe veramente comodo considerando anche che Lazzari che non si sta trovando bene in questo modulo in questo tipo di gioco si sta parlando appunto di un addio dell'esterno ex SPAL si è parlato di uno scambio con Orsolini uno scambio con Zaza che è assolutamente da rifiutare oppure una vendita a cash scambio con Orsolini sarebbe sicuramente interessante anche se Orsolini è un esterno e verrebbe diciamo per far panchina ma non credo che Orsolini venga per restare in panchina e si parla anche dell'addio di Murici e dell'arrivo di nuovo attaccante i nomi sono vari all'inizio c'era Botein ma poi è sfumato allora si è arrivati in Italia con Kalinic, Lasagna e altri nomi diciamo quello che mi convince di più adesso è Lasagna perché Zaza e Kalinic proprio o no Lasagna non è che è un fenomeno però sicuramente è molto meglio di Murici almeno questo quindi sicuramente sarebbe anche questo un upgrade nel caso dovessimo vendere a Murici però ovviamente prima di tutto bisogna cedere che siano Lazari, Murici, Lucas Leiva, Reina tutti questi giocatori qua dobbiamo smaltire un po' e poi solo dopo potremo andare a investire sul mercato a puntellare la rosa con quei colpi che ci mancano in questo mercato di gennaio visto che grandi colpi non arriveranno mi raccomando fatemi sapere la vostra qua sotto con un commento iscrivetevi al canale attivando la campanellina molto molto importante lasciate un bel mi piace al video e noi ci vediamo alla prossima bello bello